ben trovati ben trovati al tg med sport e ben trovato anche a salvatore gerasci ciao salvatore ciao luca palermo contro bari cesena che ospita il trapani sulla bilancia di questo turno di campionato salvatore quale pesa di più paradossalmente è più pesante cesena trapani ma in teoria sembrerebbe più pesante anche per la posizione di classifica delle due squadre però secondo me sono tutte e due pesanti allo stesso modo perché anche palermo bari se proprio lo vogliamo dire una partita per la sopravvivenza perché per la sopravvivenza perché il palermo deve dare motivi confortanti di ripresa deve far capire che il campionato nelle sue mani e che non vuole perderlo e allora deve centrare la vittoria e il bari sappiamo in che condizioni arriva a palermo quindi giocherà non la partita della vita ma la partita proprio della di star dentro fuori perché tutte le partite per il bari saranno così allo stesso modo è vero che anche il palermo è l'avversario preso di mira da chi lo incontra perché capolista tradizione eccetera però è anche vero che il palermo non può permettersi di fallire la serie a e allora se noi pensiamo questi motivi e li mettiamo a confronto di quello di cesena e di trapani paradossalmente poi ci accorgiamo alla fine che non solo sono pesanti allo stesso modo ma forse un tantino più pesante palermo bari perché in fondo cesena e trapani rappresentano le due squadre sorpresa della stagione a proposito di trapani con boscaia che presenta la sfida delle manuzzi non ci sarà basso per squalifica rientra dalla squalifica però pirrone è a centrocampo torna disponibile anche nizzetto noi andremo a cesena per andare a fare risultato pieno per andare a vincere avendo anche poco da perdere nel senso che andremo lì per andarci a divertire per andarci a godere lo stadio e soprattutto per andare a vincere quindi diciamo che se c'è un po di pressione è una pressione positiva quella su di noi e su di loro è una squadra che è costruita per vincere e ancora in classifica non è non è tra i nei primi due posti quindi no ma noi durante questo percorso che è iniziato cinque anni fa siamo stati abituati in un certo modo ci siamo abituati in un certo modo abbiamo lavorato in un certo modo e tutti i campionati che abbiamo affrontato li abbiamo affrontati diciamo sempre in alta classifica quindi anche questo per noi in questo momento non è una cosa che ci pesa o che ci ci dà pressione anche perché sappiamo quali sono i nostri obiettivi sappiamo per cosa lavoriamo e lavoriamo per vincere le partite che si disputano ogni settimana e l'obiettivo è quello della della salvezza raggiunto quello possiamo parlare d'altro mancano sette otto punti ancora abbiamo grande possibilità di farli se li facciamo presto possiamo alzare l'asta se non li facciamo presto non si può fare in Serie A il Catania si gioca una buona fetta di salvezza Marassi contro il Genoa Genoa che arriva dal buon pareggio contro il Napoli il portiere delle Catania però ammonisce tutti attenzione abbiamo sbagliato atteggiamento a Verona con molta tranquillità e serenità perché io so cosa è quelli che sono qua lo sanno come come sono andate le cose io sono stato sempre tranquillo con me stesso ho lavorato come sempre come sempre ho lavorato in questi anni ho scelto io di rimanere qua perché avevo voglia di riprendermi il posto non c'è nessun problema io sono sempre stato tranquillo con voglia con voglia di giocare con voglia di spingere avanti con voglia di di tirar fuori Catania in questa situazione quelli che dicono quello non capiscono nulla e non mi conoscono perché io da da cinque anni che sono qua e ho scelto tre volte Catania scelto sopra il Benfica una volta sono andato a studiante sono tornato sapendo pur sapendo quello che mi trovavo davanti ho voluto rimanere ho giocato l'anno scorso penso di bene e quest'anno pure quindi io ci tengo a questo gruppo ci tengo questa squadra la mia famiglia sta benissimo qua Catania è stato sempre bene quelli che dicono quello non capiscono nulla è inutile andare all'incontro è gente che non capisce e contento di non giocare non posso stare mai e no 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 dico può succedere sono scelte che l'allenatore sempre deve fare e quindi vengono rispettate come come sono e non ho fatto anzi nessun problema sono nato comunque benissimo ho aspettato la mia opportunità di nuovo poi anche con d'accordo con con angelo ho deciso anch'io di non parlare perché la situazione non era chiarissima per il fatto del napoli tutto quanto che lo detto lui che non vuole parlare perché mi sembra e mi è sembrato in quel momento una mancanza di rispetto verso verso la città che da tante anni sono qua quindi io preferirei non parlare di quello allora l'aspetto calcistico capita ogni allenatore fa fa le sue scelte vengono rispettate come tale ha ragione anducar adesso sono tutte finali o è la solita frase è banale per chi lotta per reno retrocelle no non è la solita frase banale il catania deve dare continuità alle sue prestazioni altrimenti si trova nei guai aveva fatto una straordinaria vittoria contro la lazio facendo capire che era tornato il catania di prima cioè il catania con tanta voglia il catania che riteneva la salvezza già un grandissimo risultato poi un po si è illuso sui successi dell'anno scorso e ha preso una brutta strada questa strada adesso l'aveva ritrovata e improvvisamente la ripessa in una partita decisiva per il suo futuro no il catania non può mollare il catania deve non solo dare continuità ma deve lottare con la stessa selvaggia a selvaggio agonismo di prima perché altrimenti la strada per la promozione sarà complicatissima perché livorno e chievo non molleranno tanto facilmente chiudiamo la pagina del calcio con salvatore grazie salvatore arrivederci grazie a voi con te appuntamento alle 14 30 domani su trm 13 per il processo in diretta noi apriamo la pagina della pallavolo andiamo in serie b2 femminile perché è arrivato il terzo successo di fila per l'andros palermo 3 a 1 all'ef volley e dunque salvezza sempre più vicina in classifica l'andros scavalca proprio l'ef volley salendo 18 punti 8 lunghezze di vantaggio sul penultimo posto adesso occupato dal pizzo sconfitto in casa del gallico non si gioca in questo weekend c'è pausa l'andros torna in campo sabato 8 marzo di nuovo al paladon bosco contro il planet strano light pedara la prospettiva il momento della squadra con i protagonisti sì diciamo che questa partita era anche fondamentale vincere perché non so ora bene in classifica come come la situazione però questi punti sono fondamentali poi al di là di tutto abbiamo dato una una prova di diciamo di quanto valiamo perché nelle ultime partite diciamo erano un po calate un po come prestazione invece in questa partita siamo un po riscattate siamo calate negli ultimi due set tra ricezione battuta però insomma abbiamo tenuto la concentrazione ed è andata bene per fortuna purtroppo non abbiamo potuto dimostrare il meglio di noi anche per i problemi fisici però ora diciamo siamo in parte tutte abbastanza riprese diciamo senza quei problemi possiamo dimostrare quanto valiamo ancora di più diciamo non c'è questo ostacolo dei problemi fisici e possiamo farci valere ancora di più quindi sì guardiamoci indietro guardiamo anche avanti adesso perché le squadre siamo tutte lì siamo racchiuse in pochissimi punti quindi giochiamocela con tutti senza paura o timore rivalenziali verso nessuno lavoreremo in palestra per trovare nuove energie nuova nuova voglia nuova vena e saremo pronti qua fra 15 giorni per affrontare una delle squadre che secondo me arriverà poi nei primi tre posti che è il pedara di Nabaldi che ha delle grandissime individualità e quindi anche quella è una partita che ci teniamo a vincere all'andata abbiamo perso 3 a 2 è stata una gran bella lotta quindi in casa sicuramente faremo faremo almeno meglio sotto il punto di vista dell'impegno vi ricordo che tutte le edizioni del tg med sport le potrete rivedere sul sito trm web punto it non ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci panificio badalamenti infinite specialità da gustare arancine un euro pizze familiari a soli 5 euro panificio badalamenti panificio rosticceria pizzeria dolci classici e moderni panificio badalamenti sacca 888 192